Ciao a tutti, sono Roberto Villa, Pre-Sales Manager per AudioEffects. In questo secondo appuntamento dedicato al mondo Twinkly Pro, cominciamo a conoscere i dispositivi hardware che ci consentono di realizzare in maniera semplice le spettacolari installazioni professionali a cui questo nuovo mondo ci sta abituando. Partiamo dagli elementi luminosi. Abbiamo a disposizione ad esempio le Capsule String 250 RGB Outdoor, il prodotto più indicato e sicuramente più utilizzato per le grosse installazioni. Si tratta di 250 singoli pixel LED RGB montati lungo una stringa disponibile in colorazione nera o trasparente con un passo di 10 cm per una lunghezza di 25 metri, il tutto certificato IP65 quindi adatto all'utilizzo outdoor. Queste strip, come tutti i device Twinkly Pro, possono essere liberamente posizionate nello spazio, disposte a definire profili, contorni o a creare una matrice di pixel per poter poi essere mappate dalla app e utilizzate come un canvas per riprodurre effetti di colore, movimento e addirittura avere propria grafica. La seconda tipologia di device LED più diffusa nell'architainment e nelle decorazioni per eventi è sicuramente la string con i bulbi G45, nel nostro caso illuminati da una potente e sorgente LED RGB, che troviamo con spaziatura di 50 cm tra i bulbi, sempre IP65, sempre adatta a qualsiasi tipo di installazione professionale. Decisamente interessanti e innovativi anche i driver Twinkly Pro dedicati a questi sistemi LED. Abbiamo a disposizione due tipi di alimentatori driver di tipologia powerline, uno diciamo più easy, ideale per installazioni veloci e sistemi di medie dimensioni, per cui si prevede connettività wifi senza fili e quattro porte di uscita a cui poter collegare altrettante Capsule String o Bulb String G45. È una versione pensata per installazioni permanenti e di grosse dimensioni, anch'essa completamente IP65, per poter essere installata in outdoor con una maggior capacità di gestione di potenza, data dalle sei porte di uscita per un massimo di sei stringhe gestibili e 1500 pixel totali. In questo caso la connettività diventa Ethernet via cavo, per cui è necessario avere uno o più switch che mettano in comunicazione i vari controller che fanno parte della vostra installazione. Rimane costante comunque la semplicità di installazione e setup. Che il vostro progetto veda impegnati uno, 10, 50 power drive e una, 10, 300 led string, dovrete occuparvi di connettere alimentazione e segnali di rete ai power driver, installare a vostro piacimento le string led e al resto pensare a Twinkly Pro, guidandovi nel setup del sistema sia in 2D che 3D, facendo una o più foto del sistema per mappare nello spazio tutti i led e fare in modo che a voi resti solo il compito di decidere quali effetti, colori o video applicare al vostro sistema Twinkly Pro. Se vuoi avere informazioni su disponibilità e prezzi dei prodotti Twinkly Pro, non devi fare altro che chiamare subito il nostro reparto commerciale a questo numero, oppure scrivere una mail a ordiniitaliaetaudieffetti.it. Per avere invece informazioni tecniche sui prodotti Twinkly Pro, scrivi una mail a streametaudieffetti.it e saremo lieti di risponderti. Ricorda inoltre di iscriverti al nostro canale YouTube per restare sempre aggiornato. Grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo video. Da Roberto Villa, ciao.